Conoscere e amare Allah, il nostro creatore. Un libro per introdurre Allah ai bambini. Scritto da The Sincere Seeker Kids Collection. Letto da JM, The Voice of Emotions. Conoscere e amare Allah, il nostro creatore. Un libro per introdurre Allah ai bambini. Di The Sincere Seeker Kids Collection. Allah è l'unico e il solo. Allah è il nostro creatore. Allah controlla e si prende cura di te e di me, delle nostre famiglie e anche di ogni altra cosa. Allah ci dà il cibo e un letto caldo e accogliente in cui ci sentiamo protetti e al sicuro. Allah si trova lassù, in alto, sopra i cieli. Allah ha creato pianeti grandi e pianeti piccoli. Allah ha creato la Terra affinché possiamo viverci. Allah ha creato stelle splendenti e brillanti per illuminarci. Allah ha creato l'universo intero. Allah ha creato la luna piena. Allah ha creato le nuvole grigie e soffici. Allah fa scendere la pioggia sulla Terra per nutrirla e pulirla. Allah fa soffiare il vento da diverse direzioni. Allah fa splendere il sole brillante. Allah ha creato l'acqua fredda e anche l'acqua calda. Allah ha creato bellissimi fiumi blu. Allah ha creato grandi oceani increspati. Allah ha creato mari profondi e scuri. Allah fa muovere e alzare le onde. Allah ha creato alte montagne rocciose. Allah ha creato basse montagne innevate. Allah ha creato gli alberi di banane e di arance affinché possiamo mangiarne. Allah ha creato bellissimi fiori profumati di diversi tipi e colori per poterne godere. Allah ha creato famiglie felici con le quali passare del tempo insieme. Allah ha creato genitori amorevoli che si prendono cura di noi e ci amano affinché ci comportiamo bene con loro. Allah ha creato fratelli e sorelle divertenti che si prendono cura di noi e di cui noi ci prendiamo cura. Allah ha creato grandi animali come gli elefanti africani, gli orsi bruni e gli alligatori verdi con i denti affilati. Allah ha creato piccoli animali come la minuscola coccinella e il calabrone ronzante. Allah ha creato cavallette salterine, piccolissime formiche e libellule volanti. Allah ha creato cibo nutriente per aiutare il nostro corpo a crescere sano e forte. Allah ha creato deliziose bevande da gustare quando abbiamo sete. Allah ha creato uva viola, pane fresco da leccarsi i baffi, formaggio giallo, pollo succulento e deliziose mele rosse. Allah dona alle persone la vita e anche molte altre cose. Allah ci ha donato una comoda casa in cui vivere, una macchina da guidare, i nostri giochi preferiti per giocare, entrambe le nostre mani per fare le cose ed entrambi i nostri piedi per camminare, gli occhi per vedere, le orecchie per sentire, la bocca per mangiare e parlare. Allah vede e conosce tutto quello che succede. Allah sente tutto ciò che si dice. Allah è molto amorevole. Allah ci ama moltissimo. Ad Allah importa tantissimo di noi. Anche noi dovremmo amarlo. Tutto ciò che c'è di buono proviene da Allah. Allah è la luce dei cieli e della terra e illumina i cuori delle persone. Preghiamo Allah perché ci ha creati e ci ama. Anche noi amiamo Allah. Allah risponde alle nostre invocazioni quando gli chiediamo qualcosa. Dovremmo sempre parlare con Allah. Allah darà le persone buone un paradiso felice dove avranno qualunque cosa desiderano e vivranno felici per sempre. Fine Fine Grazie 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 Grazie